Ehi ragazzi, come va? Come state? Tutto bene? Oggi grande giorno, oggi il 20 gennaio 2022 e esattamente un anno fa facevo un video in cui annunciavo che per un anno avrei risposto a tutti i commenti sotto a quel video fino alla mezzanotte del 20, la mezzanotte del 20 è già passata visto che sono le due e mezza che sto registrando e effettivamente sono riuscito a rispondere a tutti i commenti il video ha oltre 10.000 commenti, una cosa fantastica era nato come challenge inizialmente da un'idea del mio amico Aldo ma è diventato un punto di ritrovo per tante persone shout out particolare a Xavi Moon che praticamente ha commentato quasi tutti i giorni è stata un'esperienza fighissima, molto molto bello questo è solo un video per annunciare che è successo sono riuscito a rispondere a tutti i commenti grazie a tutti per aver partecipato a questo challenge e vi voglio bene ragazzi, vi voglio bene